Oggi, vado a lamentare sempre, cioè fino a ieri stai trovando una scusa per non chiedere il matrimonio, ora che stai proprio là per dire, senti un pozzo niente perché siamo troppo assai, massimo venti, invita la famiglia tua, non ti preoccupare, non mi prendo collo, sarà per la prossima, vado a lamentare, cioè chi lo farà proprio a scusa di doni, per non chiedere il matrimonio, voi state lamentando, e allora riuscite che siete solo un popolo di lamentoso, allora ditelo, noi siamo un popolo di lamentoso, non ci sta bene mai niente, chi le darà l'opportunità di chiamare, o sposo rimane e dico, guarda, bozzoni, perché venti persone, giusta la famiglia tua, stai sereno, non mi prendi collo, faccio sacrificio, non vengo e voi lamentate, ok? Allora siete sempre... Grazie a tutti.